Guarda qua. Ok. La tengo così e deve sapuntare. Ok. E devo riprendere la vostra... No, adesso lo fa lui. Ok. Sempre orizzontale o verticale? Io sto fermo. Ah, ecco. Mi faccio vedere. Adesso può venire di qua. Così lo facciamo con lei. Stiamo eliminando adesso questa parte qui. Così. Vedete com'è? Ok. Scusate se faccio io. Faccio vedere poi va degli astanti. Tutto una volta, eh? Ok. Sorriso. Smile. No, smile, eh? Esattamente. Anche quello lì. Oh, brava. Finito. Finito così. Poi si può intervenire. Adesso tieni poi qua. Si può intervenire ancora poi con un tervolo o qualcosa che si è detesto ad arricchire eventualmente. E così via poi. Soffio. Ok. Questo adesso va in forno poi per la cottura e diventa verde e giallo-verde qua. È una tecnica molto semplice. Serve solo il lattice ed è di molto effetto. Sì. Ok. Lasciamo qui e abbiamo finito. Loro non sono molto espansivi, non sono molto... Eh no, è loro un po' che non capiscono un po' che è il loro modo di fare. Non lo sei fatto tu. Io sto facendo il madetto di prendere, io l'ho fatta. Questo invece... Non so firmare, eh? No, va benissimo. Ok. Ok. Tengo ancora qui. Prendi il verde. Ok, fai un primo piano di qua. Adesso questo lo andiamo a appoggiare esattamente lì. E fai tu adesso l'operazione successiva. Ecco perché serve tutto continuato. Sì, sì. No, interrotto. E quello è il lattice che fa bloccare? Il lattice che noi diamo o a pennello o per la siringa. Questo serve per... Io ho fatto un disegno con... Che bello, ma pensa. Vado anche sugli astanti. Ma pensa, fate la faccia meravigliata. Miracolo! Almeno voi siete spazzini, loro non tradiscono nessuna emozione. Oh, finalmente sorride. Come si chiama il santo di Pugliese? E' un po' più di San San. Vedete, adesso Sofla. Ho avuto. Ho avuto. Ho avuto. Ho avuto il frate. Ho avuto. Ho avuto il frate. Ho avuto. Ho avuto proprio bene. Bravo, bravo. Ho avuto. E questa è la tecnica. Ho avuto. Questa tecnica si chiama riserva. Almeno in italiano questa tecnica è riserva. Riserva? perché si mette prima il lattice per riservare questo spazio dallo smalto poi quando si mette lo smalto poi quando va in cottura questa parte diventa lucida e questa parte rimane in terra cotta che è un bel effetto di contrasto che si ottiene